Buongiorno ragazzi, episodio 39, stagione 5, sono le 9.52, sono Giacomo, diventerò milionario in 5 anni, oggi torniamo a registrare col microfono, quindi la qualità audio dovrebbe essere migliore, ma fatemelo sapere come al solito nel gruppo Telegram su diventerò milionario.it, si sente di merda, ecco, detto questo, partendo da questo discorso assolutamente inutile ma divertente, alla fine dei conti siamo pur sempre al 10 agosto, quindi un po' di giusta follia ci sta, andiamo subito al fulcro dell'episodio di oggi, come avete già visto dal titolo, ma prima di iniziare vi ricordo che questo episodio è sponsorizzato da me stesso, quindi dal mio sito di corsi, che trovate su corsi.diventeròmilionario.it, se volete è stato appena rilasciato l'ultimo corso che spiega come fare utilizzando uno strumento assolutamente incredibile che è surferseo, come fare a posizionare i propri articoli, io lo utilizzo da mesi, quindi se volete andare a vedervi il corso trovate su o diventeròmilionario.it slash nuovo underscore corso oppure su corsi.diventeròmilionario.it trovate tutto quello che vi serve e tutte le varie informazioni, tra l'altro questo corso potete seguirlo gratis perché c'è un gentleman agreement quindi io ho fatto il corso, potete comprarlo a un costo oppure potete averlo gratis basta registrarsi al servizio surferseo che è una prova gratuita di 7 giorni in ogni caso appena vi registrate mi mandate una mail dicendo che ho fatto la registrazione con la mia mail chiaramente dovete utilizzare il mio link affiliato che trovate su diventeròmilionario.it slash surferseo comunque vi lascio tutto in descrizione e se avete problemi a capire quanto vi sto dicendo basta andare a vedere l'introduzione del corso dove spiego tutto nel dettaglio in ogni caso vi registrate tramite il mio link affiliato mi mandate una mail a infochioccio.it io vi attivo il corso e voi ve lo vedete gratis se dopo una settimana non vi piace o comunque non vi interessava già dall'inizio fate altro che disdire e avete visto un corso gratis avete provato surferseo gratis e non avete speso nulla una cosa veramente interessantissima quindi detto questo andiamo subito al fulcro come ben detto dell'argomento perché Davide mi ha mandato un messaggio molto interessante qualche giorno fa, due giorni fa che parlava appunto di una domanda che ha perché lui adesso si sta informando sugli affitti sugli affitti brevi mi chiedeva siccome se non ha capito male sotto casa mia ha una casa disabitata dove ho l'ufficio perché non la dibisco ad affitti brevi in realtà sì ci potrebbe anche stare però io ho un grandissimo un grandissimo grandissimo limite mentale, un limite personale ovvero che odio essere in gabbia cioè non ho mai vissuto in condominio per dire quando andavo a trovare i miei amici in condominio stavo male a sentire rumori sopra, rumori sotto pure che non si poteva fare rumori perché poi i vicini si lamentano quindi questa cosa qua a me fa veramente cagare e pensare di avere sotto delle persone che pagano per di più per stare là e quindi mi impongono di non fare rumore è una cosa che assolutamente proprio non esiste soprattutto di sera quando con mia figlia si fanno le corse per i corridoi si urla, si fanno i giochi cioè limitarsi per poi alla fine quanti soldi non so neanche quanti direi che assolutamente non ne vale la pena questo è il motivo principale per il quale non ho mai preso in considerazione gli affitti brevi perché appunto non voglio e poi bisogna essere qua, bisogna tenere d'occhio vedere i problemi eccetera eccetera e in generale io ho una teoria che più è a che fare con le persone più è a rotture di coglioni quindi il mio dirigermi verso l'internet è veramente una cosa cioè o ci sai fare e va bene oppure non ci sai fare e non va bene ma non saperci fare non vuol dire semplicemente odiare le persone vuol dire anche non sapere mettere dei paletti dar dei limiti quindi magari una persona gli dai un dito e si prende un braccio eccetera eccetera è una cosa che a me non piace e poi secondo me c'è un po' di essere troppo faciloni a riguardo cioè ah sì sì compro una casa, la metti in affitto, la metti a rendita cazzo vuoi che sia in realtà sì è un casino io ho conosciuto un amico che ha due appartamenti in affitto su Airbnb lui abita in un punto A diciamo e gli appartamenti sono in un punto B e in un punto C il punto B dista un chilometro a Ovest di dove abita il punto C dista un chilometro a Est quindi lui si trova in mezzo in sostanza e dice che gli appartamenti sono sempre pieni però lui in pratica lavora e la sera quando arriva a casa deve andare a pulire questi appartamenti preparali per il giorno dopo è tutto un casino adesso si sta attrezzando sempre meglio però appunto è contentissimo perché le persone che lasciano le recensioni lasciano quasi tutte sulla pulizia dell'appartamento quindi nelle condizioni in cui le trovano quindi se volete buttarvi su questo ambiente sappiate che la pulizia è assolutamente fondamentale e la gente lo nota subito e ci lascia delle recensioni quindi sappiatelo però lui dice che veramente ha conti fatti e lui ha veramente una persona intelligente quindi lui si segna giù le ore di lavoro per gestire questi B&B ma anche le ore di viaggio quindi tutto quello che è lavoro per quel B&B lo divide per i guadagni chiaramente ha detto che non è che sono guadagni così entusiasmanti chiaramente assumere qualcuno per gestirli li abbatterebbe definitivamente quindi non è... sì, lui ha detto che lo fa ci sta provando ma attualmente con due non riesce neanche minimamente a farsi una prima rendita quindi non riesce a lasciare il lavoro che è una cosa che voleva provare a fare interessante perché magari uno dice beh, prendo un appartamento cosa vuoi? l'affitto, lo riaffitto e via così in realtà no, lui con due confermo che non che non ci sta dietro comunque in un bel posto sulle colline col prosecco quindi posti assolutamente belli per camminate geni in bici d'estate e d'inverno quindi è un po' è un po' difficile adesso io parlo chiaramente da persona ignorante in materia cioè meglio mi sono fatto una mia idea sentendo esperienze altrui però appunto magari voi dite vabbè ma perché non ci ho mai provato come fai a dirlo adesso qui lo dico qui lo nego ma anche qui lo dico qui lo confermo se vi interessa questo argomento se vi interessa approfondire questa cosa qua potrei provare a organizzare un'intervista con qualcuno per parlare approfonditamente di questo tipo di di argomento quindi affitti brevi magari immobiliari in generale boh fatemi sapere perché potrebbe essere interessante mi muovo cerco di trovare qualcuno e vediamo cosa ne viene fuori ovviamente se vi interessa fatemelo sapere sul gruppo telegram diventerò un mio appunto di slash telegram e vediamo se viene fuori qualcosa perché appunto questa è la mia idea sono questi sono i my two cents come direbbe Gary V però da qui a dire che questa sia la verità o dire che la verità sia prendersi un appartamento e vivere di rendita dice che ce n'è del mezzo e ci sta ci sta molto 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 molta esperienza da fare molte cose da imparare io però onestamente ragazzi mi fa paura il mattone perché perché penso di essere limitato a livello di denaro però appunto quando senti parlare di mille duemila tre mila euro anche solo per risistemare un po' ripiturare un po' boh mi preoccupa la cosa detto questo non sono diciamo che questa cosa degli affitti brevi potenzialmente è il passato potrebbe essere anche il futuro ma secondo me il futuro è puntare sul lusso e cosa vuol dire puntare sul lusso io so che qui a bah un chilometro ho una zona industriale molto famosa per gli occhiali e per molte altre piccole aziende che stanno sorgendo stanno diventando grandi una mia idea era quella di trasformare questo appartamento qui sotto non in un appartamento per le notti prende un appartamento per ad esempio arrivi alle nove hai un meeting poi ne è uno alle tre di pomeriggio vuoi riposarti un po' buon perfetto vieni qua ti apro questa casa qua tu puoi lavorare puoi riposare ma tutto di lusso cioè niente cose scrause immobili che ha proprio scrivoli e fatte bene quindi tu arrivi qua internet super veloce frigo bar prendi quello che vuoi tutto incluso chiaramente ti vengo a prendere anche là poi ti riporto tutto quello che serve macchina di lusso chiaramente con un prezzo di lusso non è che puoi pretendere di venire qua e sganciare 50 euro 2-300 euro però c'è il prato c'ho le galline c'ho le uova ti fai trovare qualcosa di fatto a mano e in quel caso si che il gioco inizia a valere la candela perché poi ti fai ti fai soldi lavori però lavori alle tue condizioni e quando le persone vedono che lavori bene e il servizio che offri è ottimo cavoli a quel punto inizia veramente ad essere sulla cresta l'onda anche perché poi inviti Tizio Tizio si trova bene chiami Caio Caio si trova bene Caio lo dice a Paolo perché Sempronio è un nome che non si può sentire con tutto rispetto per i Sempronio che stanno ascoltando lo dice a Paolo Paolo lo dice alla fine inizia a vedere il tuo giro di persone che vengono qua li conosci sai cosa vogliono magari sai che uno uno piace lo champagne li fai trovare la batteria di champagne uno piacciono le ciliegie li fai trovare le ciliegie magari pianti un ciliegie o cose del genere una piccola cortezza che però fa la differenza quando riesci a trovare un rapporto personale con le persone invece che un rapporto con affitto alla mia casa per un weekend è una coppia che non vedrò mai più ok bello bello tutto però ti lasciano 50 euro e bon invece se inizi a raggiungere in termini di 500 euro al giorno e non passi neanche la notte qua cioè c'è un letto ma se vuoi il letto lo usi per farti un riposino non è che puoi star qua durante la notte o magari poi andando avanti se ne parla ma un conto appunto è dire stasera non posso fare rumore perché c'è c'è Romeo e Giulietta con i loro figli che stanno facendo stanno dormendo perché domani andranno a farsi un giro a cortina in bicicletta un conto è dire e mi lasciano 50 euro a notte un conto è dire c'è qui sotto abbiamo Paolo che mi lascia 700 euro a notte e deve dormire perché domani ho un meeting in quel caso si dice ok bimbi cosa facciamo 700 euro possiamo anche andare fuori a dormire noi e comunque rimaniamo in superattiva ecco questa è una cosa un po' che che è la differenza nel cambio di mentalità perché secondo me quando inizi a avere un sacco di risorse un sacco di di video su youtube di corsi non corsi opinioni persone che sono diventate ricche persone che sono a dubai eccetera eccetera è il caso di allarmarsi un po' perché vuol dire che il mercato si sta esaurendo le persone spostano al loro metodo di guadagno dal fare all'insegnare e questo è un po' pericoloso non credo che esistano corsi sul trasformare un immobile in un immobile di lusso e affittarlo a persone a 500 euro a notte perché perché chi lo fa col cazzo che vengono a insegnarlo gli basta e avanza a farlo e guadagnarci una valanga di soldi quindi anche questo è un modo di ragionare interessante se lo fanno tutti se ne parlano tutti forse anche no e questo è quello che vorrei passarsi da questo episodio che spero sia stato interessante magari non ho centrato proprio il punto anzi e soprattutto cosa fondamentale non vorrei assolutamente scoglionare nessuno nel fare questa attività soprattutto Davide che mi ha scritto perché effettivamente so che potrebbe essere io cerco di farlo avvocato del diavolo e parlo soprattutto per il mio modo di vedere le cose che è ristrettissimo magari Davide ha una visione della sua zona delle sue finanze delle sue capacità che è sicuramente migliore di quanto sia la mia visione delle sue capacità quindi dice no no vaffanculo già come ce la faccio lo voglio fare e ci riesce e benissimo per lui anzi io tifo per lui sono il suo primo tifoso quindi detto questo questa è la mia opinione riguardo degli affitti brevi forse dell'immobiliare compra vendita no sicuramente innanzitutto è un'altra cosa perché quando inizia a comprare e vendere o affittare appartamenti che non sono sotto i tuoi ecco magari là inizia a diventare più profittevole di sicura faccio questa puntualizzazione e ho risposto Davide in quanto mi ha chiesto dell'appartamento sotto il mio e no a me fa schifo fa schifo avere i vicini sono contentissimo che sia vuoto ma non nego che mi darebbe un senso di ansia anche avere vicini parenti cioè a me piace stare da solo con la mia famiglia avere i miei tempi i miei ritmi conoscere le persone eccetera eccetera poi ovviamente il futuro è un incognito quindi ci godiamo quello che c'è adesso sapendo che domani potrebbe cambiare tutto da un momento all'altro un po' come Alessandro Borghese che stravolge le carte in tavola però per adesso questa è la mia visione ribadisco il fatto che se vi interessa fate un po' di casino su gruppo telegram e cercherò di combinare qualche intervista qualcosa per quanto riguarda affitti brevi magari specificate anche l'argomento perché potrebbe essere un format interessante dire voi proponete io trovo la risorsa la persona e ci facciamo una chiacchierata e cosa cosa altro dire nulla mi piace che devo dire inizio a trovare delle connessioni interessanti tra le varie persone e anche il fatto che mi butti venga qua a dire guarda facciamo questa cosa qua degli affitti brevi perché potrebbe essere interessante mi piace perché appunto so già ho una vaga idea delle persone alle quali andare a chiedere perché perché dici perché alla fine è tutto alla lunga come dicevamo ieri della programmazione non è che se ti metti un anno a fare programmazione impari le stesse cose che ho imparato io in dieci anni di programmazione perché ne vedi molto di più stessa cosa anche se ti metti una settimana a fare il networking a guardare il blog a scrivere la persona e conosci abbastanza persone da poter dire a un giro di network mentre se lo fai per due o tre anni è molto più probabile che tu abbia un giro molto 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 più intenso e più profondo io non sono arrivato a due o tre anni sta per scadere il mio primo anno di networking però devo dire che i risultati sono proprio ottimi quindi vi lascio con questa cosa qua se vi interessa sapere qualcosa io ho detto sugli affitti brevi magari nel gruppo telegram qualcuno dice guardate vorrei sapere di questa cosa qua buttatemi la delle idee poi magari facciamo un sondaggio e vediamo cosa riesco a tirare fuori solo per voi chiaramente vi aspetto su gruppo telegram diventerò il mio appunto di slash telegram perché se non c'è interesse non so onestamente cosa proporre quindi vi aspetto fatemelo sapere fatemi sapere anche se questo episodio è stato interessante Davide dammi un feedback se questo episodio è stato interessante se ho risposto se hai altri dubbi e aspetto il libro chiaramente noi ci sentiamo domani sono Giacomo il mio Leonardo in 5 anni bye bye